ciao amici oggi facciamo le trittelle alla mediterranea ci serviranno acqua, uovo, un uovo, formaggio, pomodori, farina, lievito istantaneo, sale, acqua, pepe, origano e basilico iniziamo! mettiamo in una ciotola l'uovo sale, pepe, ok, e mescoliamo adesso ci aggiungiamo formaggio, farina, lievito istantaneo ci aggiungiamo l'acqua un po' per volta adesso ci mettiamo la ricotta, formaggio tagliato a pezzettini i pomodorini, origano e basilico mescoliamo bene tutto adesso mettiamo la carta da forno in una teglia e poi ci mettiamo l'impasto che abbiamo fatto facciamo dei mucchietti con il cucchiaio ci mettiamo sopra un pochino di origano e adesso il corno ed ecco amici le mie trittelle buone 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 ciao ciao